Terra, madre di tutto, io ti saluto. Mi dispiace. Cassandra! Stai bene? Devo parlare con Aspasia. Prima dobbiamo trovare Pericle, è scomparso. Non me ne frega un cazzo! Ditemi dov'è Aspasia! Cassandra! Mi dispiace. Aspasia è andata a cercare Pericle al Partenone. La troverai lì. Credo sia meglio seguirla. Sì, amico mio, sono d'accordo. Aspasia conosceva i rischi e ti ha mandata lo stesso. Mi dispiace, Febe. Non meritavi questo. Febe voleva andare. Mi ha detto che sarebbe andato tutto bene. E tu hai dato retto a una bambina! Conosci, Febe, non avrebbe accettato un no come risposta. Non potevo farci niente. Non potevi farci niente! L'hai messa in pericolo! Dovevi proteggerla! Quello che le ho chiesto di fare serviva a proteggere Pericle. Viveva per aiutare gli altri, Cassandra. Viveva per aiutare te. È una tragedia. Non doveva morire. Certo che no. Ma lo sai che condurre questa vita ha un prezzo. Io sì. Ma Febe lo sapeva. Aspasia, sei qui. Ci sono tracce di Pericle. Se è qui, sarà dentro a pregare. Si è rifiutato di rimanere nella villa. La situazione è ancora peggiore nell'Agora. È un disastro. Ora agiamo. Parleremo più tardi. Pericle... Presto! Fuori dai piedi. Ora tutto è perduto. Era un grande uomo. Forse più grande di quanto non sapremo mai. Dobbiamo portarla via da Atene. Useremo la mia nave. Dobbiamo andare. Non lasciamo che muoia in vano. Mai. Alla prossima. Grazie.